A distanza di pochi giorni dalla scarcerazione dell'ex primo cittadino di Piedimonte, Vincenzo Cappello, a seguito del presunto scandalo rifiuti, la cui operazione portò il 13 settembre scorso all'arresto di eccellenti nomi del panorama casertano, l'avvocato Cappello ha voluto affidare in esclusiva ai nostri microfoni un messaggio rivolto ai suoi cari concittadini. Alla luce di quanto è successo, cosa vuole dire ai propri concittadini? Ai miei concittadini li voglio salutare e voglio ringraziare per la solidarietà e la vicinanza che mi stanno dimostrando in questi giorni. Sto ricevendo tantissimi messaggi e vicinanza da tante persone. Sono veramente molto molto colpito, ma anche di alcune persone che non immaginavo, non ricordavo e veramente mi ha fatto tanto tanto piacere. Quindi li ringrazio e li ringrazio anche per avermi dato la loro fiducia in tutti questi anni. Si stava chiudendo il decimo anno, purtroppo è finita così. Sarà sicuramente il commissario a portare avanti quei lavori che erano iniziati e terminerà tutto nel miglior modo possibile.